Ma lo sai che nell'armonica diatonica c'è una piccola particolarità, un piccolo gap nell'accordatura che ci permette di verificare al meglio se stiamo facendo bene il nostro pucker. Hola Rockers, bentornati! Oggi vediamo come verificare la tecnica sul singolo foro, quindi la tecnica pucker sul singolo foro, se effettivamente la stiamo utilizzando bene oppure se c'è qualcosa ancora da mettere a posto. Prima di iniziare ti ricordo come sempre che tutto quello che stiamo vedendo lo trovi anche sul mio manuale Armonica Blues, istruzioni per l'uso, mi raccomando! Sull'armonica abbiamo due fori, uno aspirato e uno soffiato, che sostanzialmente emettono lo stesso suono, quindi due fori anche suonati in maniera diversa ma che fanno la stessa nota, ma non la stessa nota ad ottave diverse, proprio la stessa nota. Stiamo parlando del 2 aspirato e del 3 soffiato. Se vado ad aspirare il 2 e soffiare il 3, andiamo ad ottenere sempre un Sol. Due aspirato, tre soffiato. Cosa mi serve sapere? Che il 2 aspirato e il 3 soffiato sono sempre la stessa nota. Beh, innanzitutto è bene saperlo. E poi possiamo andare a verificare se la nostra tecnica sul singolo foro è precisa, quindi se in aspirazione oppure quando vado a soffiare sono preciso proprio con l'impostazione delle labbra e con l'emissione dell'aria. Quindi se ottengo lo stesso suono vuol dire che il mio puker, la mia tecnica sul singolo foro, EA funziona bene. Se ottengo cose un pochino più sporche, quindi vado ad avere il foro un po' più aperto, suono altri fori contemporaneamente, ecco, si sentirà... ...tutt'altro. Quindi non abbiamo la stessa nota, ma abbiamo altre note. Ecco, se non senti la stessa nota, devi lavorare di più sul puker. Com'è il tuo singolo foro? Funziona? Fammelo sapere nei commenti se ci riesci. Se non ci riesci, mi raccomando, non ti demoralizzare. Anzi, se hai domande, dubbi, chiarimenti, puoi scriverlo qua nei commenti oppure anche su Telegram, Lucinio, l'Academy, dove pubblicheremo anche contenuti extra, sondaggi, insomma, un po' di attività in più. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, buone armonicate. Ciao!